Ma queste cifre ti fanno girare la testa o no? C'è l'idea che magari tra qualche mese puoi guadagnare dieci volte più di quanto guadagni oggi, che guadagni 250 mila euro. Ah sì, no, però io cerco sempre di divertirmi perché la prima cosa è il divertimento. Due bei consigli, te le do? Te le do? Primo, battere a fanculo, secondo, restaci!